un programma per questa prossima edizione di todi festival all'insegna della contaminazione e della contemporaneità con tanti debuti nazionali ed esclusive regionali si parte con sempre aperto teatro di e con viagliaforte l'emaggio alla vetessa patrizia cavalli originaria di todi si prosegue con la danza sempre al teatro comunale con uno spettacolo prodotto da todi festival dal titolo what's your name e ancora la prosa con vecchi tempi di arol pinter diretto da paolo sepe e le volpi con giorto colangeli per poi passare alla musica con il concerto di madame in piazza del popolo in collaborazione con muni giun e ancora il concerto della blind orchestra che è una piccola perla in quanto porta sul palco del teatro comunale musicisti non vedenti e ipo vedenti sapientemente diretti dal maestro santoloci che li guida attraverso le aurone patecolari ancora un format particolare originale che è quello che vedrà protagonista marco camisani calzolari con il suo oleogramma in diretta attraverso la nuova ngc box appunto questa scatola che sarà fisicamente presente sul palco del teatro comunale con marco camisani calzolari in collegamento e dare in punto chiuderemo quindi con stefano massini e luca barbarossa all'insegna anche qui di parole e musica con il nuovo spettacolo la verità di prego su di amore e ancora il ritorno del della rassegnato di off all'insegna del teatro contemporaneo e della danza contemporanea e di ricerca mentre sono aperte le iscrizioni per le due master class e il laboratorio di scrittura critica realizzato appunto in collaborazione con teatro e critica quindi tanti appuntamenti per queste nove giornate da vivere nella bellissima toni siamo molto contenti molto felici di presentare questa nuova edizione del toddy festival una edizione che sarà straordinaria mille nomi anche musica reggiera di grandissimo appeal e toddy si presenta davvero al massimo un'estate è piena di gente e siamo contenti di poter contribuire con il festival che ha così tanti anni una così grande tradizione al futuro del mille musica 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 Grazie a tutti.